L'acqua è l'elemento fondamentale della vita del mondo, fin dalle sue origini è intorno ai bacini idrici, è intorno ai fiumi, è intorno alle sponde dei mari che sono cresciute le città, gli insediamenti umani, la civiltà. E così è stato per tutti i secoli fino ai giorni nostri. E quindi valorizzare l'acqua al meglio, utilizzarla in modo razionale, fare in modo che tutti possano disporre di acqua, contrastare tutto ciò che può determinare siccità, riduzione delle risorse idriche o loro inquinamento è una priorità fondamentale. Bisogna lavorare perché l'acqua continua a essere un bene essenziale per lo sviluppo, per la crescita, per la qualità della vita delle persone.